Figa Massello. Ragazzi, allora, seconda puntata di COD Modern Warfare 1 e adesso voglio farvi vedere una cosa che mi ha veramente ferito, ma proprio ho pianto, è proprio ferito male, adesso mi sposto in alto. Io mi stavo personalizzando lo slot, giusto? Eh sì, sereno, quando ovviamente ho detto, mi rinomino, mi cambio il nome, ovviamente, che nome posso dare al mio slot personalizzato? Figa Massello, no? Vado a scrivere Massello, Massello, che è un nome registrato, Massello, fine, contenuto volgare, figa Massello, cioè tu, aspetta, io ti vengo a prendere. Ed ovviamente entriamo in una partita già attiva, probabilmente sarò già ultimo, no beh, entro ovviamente ultimo, ma vediamo se riesco magari a fare una rimonta, se ho qualche minuto. Ovviamente ho chiamato la mia slot triste, eh, figa, tristezza. Oh, proprio brutte. Ah no, uh, siamo tutti pari. Partita iniziata, gradevole, piacevole, prezzo. Ah, figa gameplay. Ma proprio mettere Massello come contenuto volgare, sei orribile, eh. Ma di cavolo, devo cambiarmi i bottoni perché io mi accuccio con quello sbagliato. Dove, caspita, eh. Avete visto come sparava il fetente? Guardate, di solito c'è sempre qualche camper. Figa camper. Guardate come, guardate come corre, come si destreggiano nonostante l'M16 che gli ho cambiato la tutina, avete visto, con la tutina triste. Aspetta che abbasso il volume perché c'è, figa, figa le bombe. Vedete che mi butto nella mischia adesso. Sento rumori ovunque. Dove vado? Proprio disperso così. Oh, nessuno! L'ho visto qua, ho attraversato, avete visto come è attraversato come un volpino? Dove sono che si stanno ammazzando? Figa de vasto! Parto durissimo! Ammazzo tutti? Eccolo, ecco l'aereo, mi nascondo una... Eh, becca l'aereo, ovviamente, sì, visto. Se non mi ammazza, c'è stata la bottiglia di champagne, proprio un ubriaco festeggiamento. Figa de vasto. Avete visto come ammazzo? Proprio degli uccidesi, proprio porta distruzione, portatore di male. Cattiveria dura. Sono in un brutto posto. Figa, l'ho preso. Dov'è? Cioè, proprio l'ho acceccato, ma... Pikachu, dammi una mano. Ma va a fanculo anche a Pikachu. Proprio durissimo, si parte duro, dai. Ritorniamo nel set. Nel set del cazzo. Questo gioco mi fa dire le parolacce. È meglio che ritorno a giocare a God of War e a portarvi puntate di quello. Almeno sto più tranquillo. Questo fa uscire la massellanza quella brutta, quella proprio volgare. Massello tiga, massello volgare. E sono... E sono ultimissimo, ultimissimo, peggio di me. C'è solo lo schifo. Ma guarda... Ecco, è l'elicottero. Ah, non ha la raffica questa. Tiga raffica, no. Non ce l'ha. Eeeh! Ma dov'era? Dov'era che non l'ho visto? Dov'è l'UAV? Eccolo qui. L'uva. Figa l'uva. Proprio buttare via i soldi. Dov'era? Perché? Perché non l'ho visto? Proprio la coda dell'occhio mia è rotta. Proprio non funziona. Ma mal fatta. Cosa faccio? Sono un ultimo... Un ultimo secondo. Perché non l'ho ucciso? Bravo! Sei stato bravo! Non come me un pirla! Ma vai a cagare! È meglio se mi do i muscoli e basta io no Codbala. Ma perché? Adesso dimmi dove sei apparso. No, gli sono passato davanti. Cioè lui era fermo lì, giocoso, con il Game Boy a farsi gli affari suoi. Passo io e muoio brutto. Ma io avevo visto qualcuno, eh. Giuro. Figa confuso. Sono confuso. Cosa faccio ragazzi? Ne ho beccati tre di fila. Adesso mi agito. Ma cacca tua mamma lurida! Ma che cosa... Che arma è quella lì? Cos'è? Ma cos'hanno loro? Le magie? Figa Oddworld. È lì, lì, l'ho visto. Ah ma è dentro però. Fettente! 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 Ma Benni ti prende. Benni a chiappa. No! Eh sì che la perdiamo, sono un coglione. Devo andarmi a cambiare i bottoni. Tu sei un bravo ragazzo. Questo gioco mette alla prova il mio self-control. D'ora in poi sarò molto minte, molto controllato. Riuscirò a gestire la rabbia. Cosa spara il mio? Pallini di gomma? Aria? Eh? Coriandoli? Devo camperare. Scusami, devo camperare perché sono agitato. Ma cazzo, tua mamma lurida. Self-control. Self-control, please. Questo al conoscire Spong e tua mamma è cornuta. Ho appena detto del self-control, chiedo scusa a tutti. Devo mettermi tranquillo. Sono giocatori bravissimi, loro vogliono bene le persone. Come ne voglio io. Amatevi l'un l'altro come lui fa con voi. E siate per sempre suoi amici. Il nuovo gioco sarà cantare canzoncine di chiesa. U-A-V da ricognizione in attesa. Ecco, io prendo l'U-A-V. E attenti che muoio. Muoio perché quando prendo un bonus, quando la vita mi sorride... Ma perché non risponde ai feed? È un joypad brutto. Di sicuro c'è un respawn là. Figa, mi gratto il naso. Figa il raid. Come si pilota? Mi ha fatto una cazzata. Ah no, è finita la partita. Ragazzi, mi agito. Non stoppo la registrazione perché mi fate compagnia mentre mangio. Figa bontà. Arcangelo lì. Comunque il denuncio vostro è secondo, perché il Danny con un ratio orribile. Proprio la malattia. Comunque sto mangiando pollo. Figa il giscolo. Figa il pollo. Ma è la stessa prima. Ma qua, qua, qua non si va da spese. Qua boia, qua bastono. Sì, 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 sì. Lo sento proprio l'aggressività. Guardate il pettorale com'è aggressivo. Triste. Tutti contro tutti. Perché qua? Ma cos'è? Non fate prigionieri. Ma cos'è questo gioco? Ma guarda che casino. Ma che schifo. Ma cos'è perché siamo tutti incasinati qua? Ma perché? Guarda che brutto. Ma usciamo così, morti proprio. Ma che cazzo? Ma che cazzo è? Ma che cos'è? Ma che cazzo? Cosa mi fate giocare? A cosa? Ma guarda che confusione. Cioè nasce, nasce e muore. Nasce morto. Figa nasce morto. Ma la commando di Arnold. Di Arnold. Come vediamo? Lululù. Dall'alto. Che strano gioco però eh. Dai, dai, ricarica. Non mi fatemi più giocare a queste robe qua. Il gioco è da fuori, ho deciso. Ho deciso di gioco da fuori. Qua non ci voglio più giocare. Mi confondo. E vado in crisi. Questo ora proiettili che hai? Io cavolo, un ricaricatore che finisce subito. Figa devasto. Secondo. 17 uccisioni. Figa nobile. Guarda il primo. Mi ha fatto 25 e ha morto una sola volta. Ne goglioni. Alla faccia. Figa pienezza. Pienezza bastono. Dai, che c'ho brama. 12 secondi. Vi intratterrò con il solito danzo del pettorale. Figa potenza Pokémon. Triste. Io gioco con triste. Perché triste è triste. Silenzio, eh, ragazzi. Silenzio. E qua... Questa... Questa mappa è tecnica. Visto? È tecnica. Qua... Qua proprio si fa il macello. Proprio si mette in ginocchio la gente. Ma perché sono forti? Io sono un coglione. Proprio mi... Mi trista. Cos'è che lanciano? Che ne becco uno e mi ammazza l'altro. Che sto... Sto brutto sto. Figa se sto brutto. Figa smarrito. Dove sono? Figa confuso. Non so mica dove sono. Uh, una scala. Che via trampico. Controllo. Figa salto. Che bello, vado sui tetti. Figa jumper. Taci, taci. Guarda qua. Adesso faccio il pro. Figa cecchino. Niente proprio. Ma neanche se voglio. Ush. 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 Avete visto che giocate? si magari sono cazzate ma per me è forte per me essere forte così to tiro così tanto tra un po muoio infatti l'ho buttata nella merda cavalluccio come un ninja tia ninja ecco dove sono o l'uva o l'uva eh si campero si figa rincorro figa voltoio proprio avete visto lo vedete voi l'uab via uab ecco che arriva adesso attento che ha finito la batteria dov'è ho finito i proiettili ho finito i pallini che giocate guardate non ero mai arrivato a finire i pallini uccido figa de basto primo oddio agitato confuso che devo fare qualcuno che mi dica io non so se uscire se esco muoio mi stanno venendo a prendere figa sicuro eccolo che arriva questo è mio è l'elicottero questo non dovrebbe spararmi figa assist ma mi ha ucciso mi ha ucciso avete visto però ha fatto di tutto per competere figa competitivo guarda l'elicottero cosa non fa il mio elicottero vi mette in ginocchio ciccio gamer proprio muto silenzioso si scansa quando passa la massellanza figa massello figa nel gluteo figa chilla chilla la massellanza inarrestabile mi agito sì 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 si agitato 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 wow 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 ancora hanno molti da un pugno lo schermo che lo spacco a metà, lo spacco guarda se hanno preso l'elicottero eccolo là, guarda eccolo là, quello è l'elicottero? che dico io figa richieste figa gli amici dove vado? un passaggio segreto ho trovato un passaggio segreto figa un cince proprio ispeziono dove sono? è ancora più giù si va cioè esco dall'altra parte del globo esco di là e gioco a God of War dove sono andato? sono tornato dove prima ma quanti l'elicottero ci sono? figa il volo figa lirica come rischiamo? figa il secondo 20 e ne sta uccidendo un sacco col suo aeroplano figa l'elicottero figa il devasto vedete tutte queste richieste in amicizia perché vedono il gameplay puro vedono giocare il massellone dicono figa è forte vedete là ci sono i pallini rossi io devo correre dai pallini rossi me l'ha detto me l'ha detto proprio quello che gioca figa ti ho visto guarda 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 è fettente perché mi sono accanito hai capito? non bisogna accanirsi se ti accanisci muori ah che bello col pistolone eh figa voglio anch'io il pistolone sì sì 44 magnum tutta colorata bella aggressiva cazzo aerografata e Danny secondo figa sboccio stasera cinque volte solo sono morto figa macellaio proprio ok ragazzi allora questo video finisce qui perché devo andare via se no la ceri mi uccide mi metto grande così ma no mi lascio piccolo così tanto che me ne frega voi esco da qua allora cosa ho vinto? di sicuro sarà un figo abbandonare ah no niente perfetto fatemi sapere cioè ditemi le cose perché se no me le dite cosa so cosa non so cosa fare io qua che ho quando ho un'oretta libera gioco registro invio clicco su youtube come i famosi faccio i like no?